ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno del mio canale e in questo nuovo gameplay asmra oggi affronteremo una survival andrò a procurarmi del cibo dai miei animali all'interno delle mie fattorie e mi occuperò delle mie coltivazioni sparse un po in tutto il server andiamo a prima dai miei animali a dargli da mangiare e a procurarci del cibo dato che non ne abbiamo innanzitutto prendiamo del grano saranno molto affamate è parecchio che non vado sono davvero tantissime adesso cerchiamo piano piano di non uccidere i vitellini perfetto poveri vitellini appena nati e già subiscono questi addorci sofferenze perfetto adesso vediamo se alcune devono mangiare ok adesso andiamo a depositare di nuovo il grano all'interno della cesta e andiamo a cuocere la carne che abbiamo appena preso all'interno dell'affumicatoio ci mette molto molto meno ragazzi il problema è che non abbiamo il carbone ok l'abbiamo trovato dai villager levati perfetto nel frattempo che cuoce il cibo direi di occuparci delle piantagioni che è un bel po' che non ci faccio un salto e ho bisogno davvero di tante cose con la neve credo che comunque crescano molto più lentamente del normale i suoni di minecraft io li trovo comunque sempre molto rilassanti per un po' con le carote saremo a posto potremo anche controllare se qualche villager ci chiede delle carote in cambio di smeraldi a volte ci sono villager che hanno degli ottimi scambi ok le carote abbiamo fatto adesso ci occupiamo del grano altrimenti le povere mucche come fanno a mangiare? mi triggerò un casino il fatto che qualche grano ha fatto qualcuno no perché non si fanno sempre tutti allo stesso momento è una cosa che davvero mi urta perfetto adesso saliamo al piano di sopra perché abbiamo altre coltivazioni da controllare abbiamo le patate anche qui alcune sono fatte e alcune no c'è un gatto in giro ogni volta che c'è un gatto e voglio catturarlo non ho mai del pesce insieme a me non ho mai non ho mai non ho mai non ho mai dovrei dovrei iniziare ad allevare dei maiali con tutte queste carote che ho poi possiamo regarci alla coltivazione che c'è sul castello che è davvero davvero grande adesso è notte ci conviene andare a dormire ecco come non detto adesso andiamo a dormire prima che possa arrivare un creeper e sicuramente i creeper non fanno un bel rumore direi di andare al castello che c'è una grandissima piantagione di grano e dobbiamo anche andare a depositare a casa tutte queste cose che mettiamo qui no ma sarò tonta adesso ci richiamo verso il castello ma non ci posso credere cap tu sei sempre in mezzo ovunque vada tu sei sempre in mezzo è assurdo ragazzi è davvero assurdo tutto andiamo al castello questo farà un po' rumore attenzione perfetto un attimino che mi passa la nausea ragazzi è davvero fastidiosa ok perfetto ecco qui ragazzi le piantagioni di cui vi parlavo questa è davvero grande qui ci sono anche parpapietole parpapietole di nuovo carote e addirittura quando sono andata nel nether ho preso anche le verruche le patate possono sempre servire per fare alcuni esperimenti e pozioni invece abbiamo altre patate sicuramente quest'inverno ragazzi non moriremo di fame mi diverto tantissimo a raccogliere il grano così in questo modo sentite che rumore rilassante a me piace tantissimo non Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alle angurie e alle zucche. Ci sono anche le pacche, anche se sono fastidiosissime. Esatto, proprio per questo motivo. Dopodiché ci rimane il bambù e le canne da zucchero. Perfetto ragazzi, diciamo che qui abbiamo terminato. Possiamo tornare a casa a sistemare tutta questa roba nelle varie ceste. Dunque vediamo, qui, perfetto. Ci sono le carote. Ok. Poi, la pelle, il cuoio. Poi, qui c'è della carta. Qua ci sono dei semi. Poi ci sono barbabietole. Angurie. Le patate non sono qui, lì ci sono i semi. Le verruche vanno di sotto. E qui ci sono delle pacche dolci. Mettiamo anche la zucca. Che altro mettere altri semi. Perfetto. Dovrebbe esserci una ceste. All'interno delle patate. Vediamo. Eccola qui. Qui ci mettiamo le patate. E dovrebbe esserci un'altra ceste. Che contiene bambù e canne da zucchero. Però adesso non le trovo. Scendiamo giù a depositare le verruche. All'interno della ceste. Per gli incantesimi. Perfetto. Addirittura ne avevo poche. Meno male sono andata a prenderle. Poi, diciamo che possiamo andare a mettere il grano. Vicino l'altra fattoria che ho qui. Vicino casa. Ecco, ho bisogno di cibo. Ero a casa, non l'ho preso. Ciao, bandini. Ragazzi, io adoro i panda. Non so voi, ma sono bellissimi. Qui abbiamo delle pecore. E di là delle mucche dovremmo fare un recinto per mettere i maiali. Qui il grano a volontà. Perfetto. Direi di tornare a casa qui. Così mangiamo qualcosino. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia rilassato almeno un pochino. Se fosse così, mettete tanti like. Così che ne farò sicuramente altri. Se volete venire a trovarmi nel mio server per rilassarvi insieme a me, i link sono in descrizione. Così come tutti i link dei miei social. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina per non perdervi nessun nuovo video. Asmara. Con questo è tutto. E alla prossima. Ciao ciao. Ciao.